Dopo i recenti fatti delittuosi a Vittoria che hanno destato un forte allarme sociale, agenti del locale commissariato coadiuvati da quattro unità cinofile della questura di Cataria hanno eseguito ieri perquisizioni domiciliari presso diverse abitazioni del centro abitato in contrade rurali. Grazie all'infallibile fiuto dei cani anti-esplosivo, presso l'abitazione di un 23enne con presenti penali, sono state rinvenute munizioni per una pistola a calibro 22, oltre a cartucce calibro 12 da caccia. Inoltre è stata rinvenuta anche una piccola quantità di hashish. In un'altra abitazione invece, un uomo autorizzato a detenere legalmente un fucile a una pistola 38 Special è stato trovato in possesso di numerose munizioni che, per quel tipo di pistola, non era autorizzata a possedere. Infine, terzo intervento in una zona rurale dove un albanese di 19 anni è stato scoperto con cartucce per fucile da caccia. Tutte le munizioni e le armi detenute illegalmente sono state pertanto sequestrate e tre soggetti coinvolti denunciate all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla speciale legislazione in materia di porto d'armi. Per il possesso del hashish, infine, il pregiudicato scoperto verrà segnalato alla prefettura di Ragusa. I controlli alla ricerca di armi e munizioni del comprensore di Vittoria proseguiranno anche nei prossimi giorni.